Pur essendo pochi metri, tra virgolette, nella città di Milano, si è e si respira un clima, un ambiente completamente diverso. Suoni e colori di un pomeriggio piovoso nel borgo di Chiaravalle. Al centro, l'abazia fondata nel 1135, dove vivono i monaci cistercensi. Intorno, il verde del Parco Sud. I rumori della città sono a pochi passi, ma si dimenticano subito. Oltre il campanile, il comune di San Donato, dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio del Milan, una prospettiva che spaventa i monaci. Se io costruisco una cosa, questo ha un impatto su un territorio. La valle dei monaci, tutto questo insieme di realtà che hanno caratterizzato nei secoli precedenti uno stile di vita. Ci auguriamo che questo non stravolga un territorio, non l'abazia di Chiaravalle. Tra le realtà chiave del territorio c'è Nocetum, associazione di volontariato e cooperativa sociale, fondata 36 anni fa, dove c'era una cascina abbandonata. L'idea di uno stadio 800 metri da qui, dove corre il sentiero del silenzio, verso la via francigena, spaventa. A me fa veramente tanta paura. In questi anni ci siamo impegnati tanto per restituire la bellezza, il verde, ai cittadini milanesi. Cosa diremo ai nostri bambini, a chi verrà dopo di noi? Li faremo vedere che c'è uno stadio di calcio? Ecco, io penso che non sia un progetto lungimirante, sinceramente.